ciao ragazzi un saluto da me e teo dami la zampa ripartiamo qualche giorno andiamo verso madesimo e niente andiamo a farci un giro lì qualche passeggiata danno bel tempo qua ci sono 16 18 gradi quindi alla grande vai teo dammi 5 la mia zampa ciao salendo siamo arrivati a motta col camper adesso saliamo sulla sulla madonnina che c'è qua in alto da qua non si vede non si vede ragazzi ci siamo siamo arrivati alla madonnina o mia bella madonnina che te domine madesimo tutta abdoro e piscinina che te domine madesimo yeah ciao 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 ciao